Le Paralimpia di 2024 sono partite finalmente, emozioni, spettacolo, una cerimonia d'apertura degna del nome che porta, presente ovviamente anche il nostro Capo di Stato, non mi riferisco a Giorgio Ameloni, l'attuale Presidente del Consiglio Italiano, ma mi riferisco all'uno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per le occasioni in piedi davanti agli azzurri, per tifare per l'appunto gli azzurri, le emozioni sono state veramente alte, presente anche Beppe Vio che era presente, ripeto, a questa cerimonia d'apertura dei giochi paralimpici di Parigi in Francia. La della forse più nota dei giochi favorita nel Fioretto, Beppe ha ceduto la fiaccola a Oscana Masters, una donna americana statunitense, il tedofolo è di Florent Maladu, va bene? E' stata una cerimonia piuttosto importante, bella da vedere, dove le emozioni sono state garantite grazie ai presenti, ma anche grazie al fatto che era presente Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per le bravizioni di questo video di oggi, forza all'Italia, forza agli italiani in queste Paralimpiade di 2024, una buona giornata a voi tutti.